buongiorno non so se sono se sono in diretta quindi forse ho bisogno di qualche segnale di presenza allora intanto cerco di capire ecco vediamo un po chissà se qualcuno allora sta guardando e quindi vuol dire che sono in diretta ok ci prendiamo ancora qualche secondo perché in questo modo luciano schiara ciao amici mi fa molto piacere leggere però non sto aspettiamo aggiorniamo questa pagina vedete vediamo se riesco a vedere eccolo qui ok adesso vi vedo e posso dire dire un po e questo lo togliamo bene bene molto bene adesso dunque aspettiamo ancora un mezzo minuto per poter essere ciao ciao a tutti ciao viola alessia alessia il cognome meri anna buona diretta grazie manola vedo che c'è c'è parecchia della gente che sta che si sta collegando e naturalmente mi fa mi fa piacere monica adriano bene bene sì Quindi, buon pomeriggio a tutti, vedo che diverse persone invece di fare la classica gita fuori porta del primo maggio hanno deciso di dedicare un po' di tempo a questo nostro incontro. C'è Teresa, ciao Teresa, mi fa molto piacere vedere tutti questi amici. Molto, molto, molto. Beh, stanno state, siete veramente molti e quindi abbiate pazienza se non vi saluto tutti. Vi voglio però dire che oggi tratteremo l'argomento del, insomma, riprenderemo la lettura che abbiamo iniziato la volta scorsa. Ricorderete che la volta scorsa noi abbiamo letto la parte iniziale, la presentazione di una delle guide del Cerchio Firenze 77. E cioè abbiamo parlato di Dali. Dali, questa voce dolcissima, meravigliosa, che purtroppo oggi non riesco a farvi sentire perché purtroppo l'apparecchio oggi fa storie. Non ha un suo monitor, non funziona una cassa, altrimenti vi facevo sentire volentieri questa voce e anche l'altra di cui parleremo oggi. La voce di cui parleremo oggi è una delle guide che per più tempo ha seguito il gruppo del Cerchio Firenze 77. Claudio è quella voce che si è occupata in maniera molto specifica di una parte dell'insegnamento molto importante perché è l'insegnamento del conosci te stesso, cosiddetto del conosci te stesso. Questo insegnamento del conosci te stesso è forse l'unica indicazione per quanto riguarda proprio tutto l'insegnamento del Cerchio Firenze 77. È l'unica indicazione che è stata data non tanto comportamentale ma l'unico metodo che è stato indicato per poter avere un po' di bellezza su di sé e sul proprio modo di stare nel mondo in contatto con la vita e in contatto con gli altri. Molta di questa vita che trascorriamo insieme è una vita vissuta un po' nell'inconsapevolezza senza grande capacità di comprendere realmente tutti i misteri che ci sono dietro questa vita ma anche senza comprendere bene come noi stiamo in relazione con questo. Questo è un punto fondamentale perché dico questo perché molto spesso tante tante persone attraversano la vita in una inconsapevolezza quasi totale. Non è una colpa, intendiamoci bene, non intendo con questo dire che c'è qualche cosa di sbagliato in questo. È solo una fase del cammino dell'uomo lungo il suo percorso di conoscenza di sé e il suo percorso evolutivo che attraverso varie esperienze esistenziali lo porta a crescere, a migliorare se stesso e a presentarsi sul palcoscenico della vita sempre con nuove competenze, con una migliore capacità di stare dentro la vita e di vivere la propria vita in maniera armoniosa con tutto quello che lo circonda. In alcune fasi di questa vita noi non siamo così consapevoli di quello che succede ma siamo completamente immersi in questa esperienza esistenziale, molto presi da quello che è l'oggetto, è l'obiettivo che ci siamo posti in questa vita, anche questo talvolta inconsapevolmente, e quindi veniamo un po' trascinati dagli eventi senza capire molto di quello che accade e soprattutto senza capire e conoscere granché di noi. Poi avvengono cose come quella che sta avvenendo ora con il coronavirus in cui noi siamo costretti a vivere determinate situazioni molto difficili. In queste situazioni molto difficili, come ho detto lunedì scorso nella pillola che va lunedì su questo stesso canale, ho detto che queste situazioni un po' estreme portano a galla alcuni aspetti di noi, alcuni meno belli, alcuni invece molto belli, aspetti che non conoscevamo di noi stessi. Cioè quando veniamo messi a confronto con qualche cosa di estremo, di forte, di decisivo per le nostre vite, abbiamo reazioni e comportamenti che forse non pensavamo di riuscire ad avere o di poter avere o che facessero parte di noi. Ecco, questo significa che in tutta l'altra parte della vita, quell'aspetto che si è manifestato così, in questo modo, durante ogni altra occasione che si manifesta in questa occasione estrema, quell'aspetto lì non lo conoscevamo, mentre invece abbiamo vissuto in una modalità, come dire, parziale, ovattata, una modalità un po' nascosta e non abbiamo avuto modo di conoscere più di tanto il nostro comportamento. Alcuni eventi della vita ci portano invece a conoscere in maniera approfondita. Claudio ha dedicato praticamente tutto il suo corso di insegnamento al conosci te stesso, cioè a indicare alcune cose che riguardano la vita dell'uomo, a come l'uomo le vive, a spiegare certi meccanismi che sono legati a questo particolare aspetto della nostra esperienza esistenziale, che è riassunta in quella espressione che loro hanno definito come io. L'io è una manifestazione, proprio la manifestazione dell'uomo, come l'uomo si manifesta, è la modalità attraverso cui l'uomo si manifesta, ed è questo io che in qualche modo guida, indirizza, orienta, opera scelte, fa tutta una serie di attività che hanno fondamentalmente come scopo quello di proteggere se stesso, accrescere se stesso, muoversi per cercare di trovare la propria affermazione, per sentirsi sicuro dentro la vita e svolge tutta una serie di attività delle quali spesso noi non siamo così consapevoli. Quindi, purtroppo, cercherò la prossima volta di organizzarmi meglio, perché vorrei proprio farvele anche sentire un po' queste voci, però vi devo dire, prima che mi dimentichi, che se voi andate sulla sito www.cerchiofirenze77.org, org come l'inizio della parola organizzazione, anche se Cerchio Firenze 77 non è un'organizzazione, però quella è l'estensione, per cui www.cerchiofirenze77, tutto attaccato, 77 in numeri, cerchio Firenze in lettere, 77 in numeri, tutto attaccato, .org, andate lì, su quel sito trovate moltissimi brani in voce, potete ascoltare la voce di Dali, la voce di Claudio, di cui parleremo oggi, di cui vi leggerò oggi, e la voce di tutte le altre guide che si sono affiancate l'una all'altra nel corso di questi 38 anni di magia che è stato il Cerchio Firenze 77. Poi, come sapete, se volete un pochino più di informazioni e approfondire, naturalmente ci sono i libri del Cerchio Firenze 77. Questa è la seconda lezione di lettura, noi la volta scorsa abbiamo letto Dali, Adesso, oggi, vi ho un pochino accennato, presentato la voce di Claudio, inizierò la lettura dalla pagina 80 del volume Dai Mondi Invisibili. Vi ricordo che il nostro amico, che da tanto tempo si occupa delle cose del Cerchio Firenze 77, che è Nicola Ferrentino, che vive a Milano e si occupa di organizzare gli incontri con il gruppo di Milano e anche altrove, a Napoli, sta andando anche a Napoli a parlare del Cerchio. Nicola ha messo su questo sito, su questa, scusate, pagina Facebook, dove state guardando adesso, e sulla pagina Facebook Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, questo è il titolo lunghissimo di questa pagina, Il Cerchio Firenze 77, una storia vera divenuta leggenda, ha messo i testi, i testi per cui qualcuno che in questo periodo di coronavirus non ha potuto procurarsi il primo libro del Cerchio Firenze 77, che è Dai Mondi Invisibili, che è questo qua, spero che si legga, non so se si legge all'incontrario, io non ho mai capito come funziona per riuscire a farvi vedere questa cosa nel modo migliore. Comunque è Dai Mondi Invisibili, il primo volume, lui ha messo la parte di testo che leggeremo, quindi potrete scaricarla e seguire le letture tramite questa possibilità che ha messo Nicola Ferrentino. E direi di cominciare la lettura, perché anche oggi ci aspettano alcune pagine, oggi avremo anche un pochino di tempo alla fine della lettura, se qualcuno avrà delle domande da fare, le scrive, io cercherò in qualche modo di rispondere come posso alle domande che fate e quindi ci daremo un pochino di tempo anche per questo, alla fine di questa lettura. Adesso leggiamo tutta la parte che riguarda Claudio, che si trova da pagina 80 sul volume del Cerchio Firenze 77, Dai Mondi Invisibili, che è il primo volume del Cerchio. Inizia proprio il primo, sono dei brani che sono riportati, che sono proprio indicativi di questo pensiero e dell'insegnamento che porta Claudio. Noi lo chiamavamo il fratello Claudio o maestro Claudio. Il primo si intitola proprio Conosci te stesso. Conoscere se stessi significa conoscere la vera realtà dell'essere nostro. Significa comprendere che cosa è in noi stessi che proviene dall'ambiente che ci circonda e dai nostri veicoli e che, pur facendo parte del nostro essere, non rivela la vera natura di esso. Conoscere se stessi significa operare a una introspezione accurata, sincera, che metta a nudo quanto si agita in noi senza temere di apparire peggiori a noi stessi. Nella lettura che farò di Claudio ogni tanto mi soffermerò, perché la lettura di Claudio è uno dei punti cardine dell'insegnamento del Cerchio Firenze 77 e per questo voglio proprio soffermarmi sulle cose che mi sembrano importanti. Abbiamo appena letto. Conoscere se stessi significa operare una introspezione. Intanto si parla di introspezione. Introspezione significa guardarsi dentro, cioè fare un'ispezione interiore, una intro-ispezione, ispezionare se stessi. Accurata, sincera, che metta a nudo quanto si agita in noi senza temere di apparire peggiori a noi stessi. Questo è oggettivo. Sembra una cosa semplice, ma è una grande difficoltà in realtà. Perché dico che è una difficoltà? Perché a nessuno di noi piace mettere in evidenza gli aspetti, diciamo, meno belli di sé, no? Scoprire che ci sono cose poco edificanti dentro di sé o che certi comportamenti non sono quelli che vorremmo avere. Alle volte riusciamo ad avere dei comportamenti di un certo tipo nella manifestazione, cioè nel fuori con gli altri, sapendo però che stiamo in qualche modo censurando alcune cose nostre che vorrebbero comportarsi in un modo diverso. Cioè noi diamo un'immagine di noi che è un po' più vicina all'immagine che noi vorremmo che gli altri avessero di noi stessi. Ma l'immagine è una cosa, la realtà di noi stessi è un'altra. E quello che ci spinge a fare Claudio è proprio questo, andare alla scoperta di quella parte di realtà di noi stessi che noi non mostriamo agli altri o addirittura che noi, senza rendercene conto, teniamo nascosta anche a noi stessi. Quindi, senza temere di apparire peggiori a noi stessi. Conoscere se stessi significa scavare, giungere alla radice del nostro essere, al sentire reale. Qui sentire è scritto, come vedete, tra virgolette, tra due piccole parentesi, sentire reale, perché si dà un valore particolare al termine sentire. Questo termine, sentire, ci torneremo sopra tantissime volte perché ha molti significati e comunque un significato particolare nell'insegnamento dei maestri del cerchio di Firenze 77. E cioè il sentire è proprio quella parte, in alcuni casi viene chiamato il sé, quel nucleo centrale, quella parte che ha a che fare con la nostra coscienza, badate bene, non la buona o la cattiva coscienza di qualche religione, non c'entra proprio niente, proprio la parte essenziale, ciò che è il nucleo centrale di ognuno di noi, di cui noi abbiamo poca conoscenza perché noi quella parte lì del sentire si manifesta attraverso di noi ma si manifesta attraverso tutta una serie di filtri che non ci permette di incontrare veramente quel sentire. Allora questo conosci te stesso che propone Claudio ha proprio questa funzione di arrivare scavando ad avvicinarsi il più possibile a incontrare quella parte, quel nucleo di noi, l'essere, proprio il sentire, la parte centrale, quindi arrivare e giungere al sentire reale. Significa, dice Claudio, comprendere se ciò che noi crediamo altruismo, amore, è veramente tale. Significa riuscire a comprendere se quell'affetto che è in noi è dettato dalla nostra coscienza o se non è che è una spinta sessuale sublimata. Questo significa conoscere se stessi, avere la chiara visione della nostra natura, senza cercare di nasconderla pensando di essere così migliori, senza cercare di soffocarla credendo di meritarsi in questo sforzo il paradiso. Questo fa parte un pochino della cultura un pochino più diffusa da noi nel mondo occidentale e in particolare in Italia. Noi facciamo parte, tutti quanti, siamo tutti quanti, moltissimi tra noi, hanno fatto questa esperienza di cultura religiosa che vede come obiettivo, come raggiungimento, una volta che si lascia questa vita, una forma di esistenza in un luogo chiamato paradiso che ci dobbiamo però conquistare attraverso lo sforzo per cercare di essere migliori, cioè per commettere meno errori possibili da un certo punto di vista, da un punto di vista di una certa morale e quindi facendo questo ci guadagniamo qualche cosa nel cosiddetto al di là, qualunque sia l'al di là che ognuno di noi pensi che esista. Ebbene, qui lui ci sta dicendo un'altra cosa, ci sta dicendo cercate di avere la visione di chi siete veramente. Non vi serve fingere con voi stessi o immaginare o far vedere di essere migliori di quello che effettivamente siete. Non ci sta invitando a comportarsi, come dire, in maniera scriteriata nei confronti degli altri se questa è la nostra natura. Naturalmente non ci sta invitando a fare questo, ma ci sta invitando a prendere consapevolezza di chi siamo veramente, senza maschere, quel che siamo e senza giudizio. Il brano successivo dice l'Io come limitazione. Ultimamente è stato sottoposto alla vostra attenzione il fatto che gran parte della sofferenza dell'uomo nasce dalla sua mente o, meglio, dal modo errato di usare la mente. Vorrei portarvi un esempio. Abitualmente l'uomo non ha consapevolezza di una parte del suo corpo fino a che questa non sia mali o non gli procuri dolore. Così è della mente. Se arreca dolore all'uomo, ciò significa che non funziona armoniosamente. Vi è stato anche accennato il fatto che la mente può cessare di arrecare dolore all'uomo. E ciò accade quando finisce di creare e mantenere in vita l'Io. Ci sta dicendo che è la mente che crea e che mantiene in vita l'Io. L'Io è un figlio della mente. L'Io è un prodotto della mente. L'Io esiste perché la mente lo fa esistere. La causa e l'oggetto della sofferenza è l'Io. È l'Io che soffre ed è l'illusione della separatività, il soggetto della sofferenza. Fino a che esiste l'Io persiste il dolore. Allora qui ci ha dato in tre righe una chiave importantissima per capire noi dentro il mondo la sofferenza che incontriamo, le fatiche che facciamo dentro la vita, le difficoltà che troviamo. Dice la causa e l'oggetto della sofferenza è l'Io. Quell'Io che abbiamo detto due righe sopra è creato dalla mente. Quasi che c'è un'identificazione io-mente perché l'Io occupa tutta la nostra vita. Per ognuno di noi l'Io occupa veramente tutta quanta la vita, la riempie tutta. Che vuol dire che c'è un'identificazione con la mente perché noi viviamo la vita attraverso la nostra mente che crea questa funzione, questo Io, il quale è quello che soffre, è quello che arreca dolore all'uomo. La causa, l'oggetto della sofferenza è l'Io, è l'Io che soffre ed è l'illusione della separatività il soggetto della sofferenza. Ecco, i due punti. Questi sono i due punti cruciali direi di tutto l'insegnamento. Durante questo viaggio che faremo verranno svelati misteri meravigliosi, segreti, cose importantissime per capire cosa è la vita. Ma i punti essenziali sono capire l'Io e capire bene questo concetto di separatività che è costantemente alimentato dall'Io. È anche abbastanza semplice capirlo. Più c'è un Io che agisce e più questo Io ha come confine, come confronto di se stesso, ha il non-Io. Quindi esiste l'Io e il non-Io. Finché c'è un Io, c'è anche un non-Io. Io, non-Io. Separatività. Cioè l'Io separa se stesso da tutto il resto. Tutto il resto da sé, separato da sé, è il non-Io. Questo è proprio il cardine dell'esistenza dell'uomo per come noi ci muoviamo. Fino a che esiste l'Io persiste il dolore. Perché? Mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio perché finché c'è qualche cosa da cui sono separato, con cui mi confronto, lotto, cerco di conquistare, in tutta questa fatica si genera dolore. Quindi l'Io e il non-Io generano per noi questa condizione di dolore. Quanto più l'Io è valorizzato, innalzato, sublimato, tanto più cresce la causa del soffrire. Fino a che esiste l'Io, esiste corruzione, lotta, dolore. Per capire la causa della sofferenza, consideriamo che cos'è l'Io. L'uomo ha un corpo fisico, con i suoi sensi, vista, udito, tatto, eccetera. Ha poi un altro nucleo di sensazioni come irritabilità, ansietà e via dicendo. Ha ancora la possibilità di pensare, cioè interpretare personalmente la realtà, ponendo in relazione gli uni con gli altri fatti e pensieri e sensazioni, traendone delle conclusioni. Questa è l'attività della mente. Tutte queste cose, il corpo, le sensazioni, i pensieri, creano l'Io. Non è che l'Io pensi, semmai è il pensiero. Scusate, semmai è il contrario. L'Io non ha riscontro, non ha neppure un'esistenza propria, contrariamente a quanto affermano gli studiosi della psiche. E perché non trova riscontro nella struttura dell'individuo, cerca di affermare la sua esistenza con l'accumulare, crescere, possedere. È il desiderio di accrescersi che fa cercare la sicurezza della continuità, la certezza che non sarà annientato dalla vita e dalla morte. Così si fa più netto il senso di separatività. Il pensiero si standardizza e viene eluso ogni cambiamento. Il timore fa sì che l'uomo divenga la sua legge. Capite bene in queste poche righe che cosa ci ha detto Claudio. Claudio ci dice che questa struttura, questa espressione di una mente è qualche cosa di inesistente, è come fosse un pensiero, il pensiero che occupa ogni uomo, un pensiero che riempie completamente ogni esperienza esistenziale, di essere un Io separato da tutto quanto lo circonda. Allora, essendo questo, essendo un Io separato da tutto quanto lo circonda, questo Io protegge se stesso, cerca di rinforzarsi, cerca di avere soddisfazioni, potere, fa tutto per se stesso, accresce se stesso fino a occupare tutto il suo spazio esistenziale. E lo fa sempre alla ricerca di qualche beneficio per sé, che sia ricerca di affetto, di amore, che sia ricerca di potere, danaro, posizioni, ruoli, titoli. Tutto questo fa per sé, per accrescere se stesso, perché più si accresce, più si rassicura nella sua vita. Qui mi fate già delle domande, ma vi devo pregare di farle dopo la lettura, così riesco a leggere e a seguire le vostre domande, altrimenti non riesco a rispondervi adesso. Il risultato di tutto ciò, dice Claudio, è dare importanza nel senso errato alla personalità, cioè credere che occorra accumulare per essere felici. Non c'è bisogno di dire che ci siamo passati tutti, e forse ci siamo ancora immersi dentro. Accumulare qualsiasi tipo, accumulare esperienze, accumulare viaggi, accumulare denaro, accumulare oggetti, accumulare case. Capite? Scusate, perché sto lavorando davanti al telefono. Purtroppo il telefono ogni tanto suona, io lo spengo subito, però ci troviamo, che ci interrompe un attimo il nostro lavoro. Allora, tutti quanti accumuliamo nella vita. È come se fosse quello per cui siamo venuti nella vita, occuparsi di accumulare, accumulare anche gli affetti, anche piccole cose, i collezionisti, cioè accumulare. Tutto quanto questo accumulare ci dà sicurezza. Si dà, dice Claudio, importanza al lavoro per ciò che questo può dare al singolo con oggetti, amicizie, qualità, mentre il lavoro dovrebbe essere visto in funzione della collettività. È un ribaltamento completo del nostro modo di intendere la vita. Noi scegliamo di lavorare perché questo ci dà oggetti, ci dà possibilità di star bene, ci dà cose il lavoro. E lavoriamo per questo. Invece pensate, il lavoro è vissuto come in funzione di bene della collettività. Si dovrebbe programmare per l'intera umanità, non per il beneficio di pochi. Il lavoro si dovrebbe programmare per l'intera umanità e non per il beneficio di pochi. La mente è costantemente occupata per l'io. Pensa, se l'io possiede abbastanza, se avrà abbastanza onori e gloria e benessere. Questo è quello che pensa la mente. Così, in questa visione della separatività, ingannate voi stessi in vari modi. Ma quando cesserete di vivere in funzione dell'io, cioè dal punto di vista dell'io, allora cesserà ogni conflitto, ogni desiderio di conseguimento. La mente sarà al fine libera e non causerà più dolore agli uomini. Perché la stragrande maggioranza del dolore che gli uomini provano ha a che fare con questi tentativi esasperati di ottenere, avere, possedere, tutto questo che rinforzano l'io, questa rincorsa dell'io a riuscire ad ottenere tutto questo, dà molto dolore, perché tanta fatica per farlo e tante delusioni anche, perché la gran parte di noi non riescono ad ottenere tutto quello che vorrebbero. incontrano ostacoli, vengono ostacolati da altri, succedono cose che non ti permettono di realizzare te stesso, poi perdi tutto, capita qualche cosa per cui tutto quello per cui hai lavorato scompare, è giù sofferenza, sofferenza, sofferenza. Tutto relativo all'io. Smetti di prestare attenzione a questo richiamo dell'io, a vivere volendo nutrire, a crescere quest'io e scompare tutto questo dolore. Finisci, scompare, non c'è più. Continua dicendo, le discriminazioni. Avete mai pensato a voi stessi e a quante discriminazioni volontariamente o involontariamente siete usi fare? Oggi il problema razziale non è che un aspetto dell'umana discriminazione. Chi non pensa ai suoi simili catalogandoli in funzione di qualche sua personale o della società metodologia discriminatoria? Chi non pensa ai suoi simili classificandoli in belli o brutti, simpatici o antipatici, intelligenti o no, ricchi, poveri, facoltosi, potenti, bianchi o di altro colore, appartenenti ad una religione o a un partito piuttosto che all'altro, aventi un titolo di studio o no, in qualche modo quindi classificandoli e operando pertanto una discriminazione mi viene da dire io mi ci metto quale meraviglia può esservi nel vedere che altri fratelli addivengano a queste discriminazioni quando noi stessi, il nostro malgrado, perché non ci conosciamo, commettiamo lo stesso errore, dobbiamo comprendere noi stessi e amare tutti, questo è veramente difficile, senza subordinare il nostro affetto ad alcunché, senza limitarlo ad un settore di quel quadro discriminatorio che siamo avvezzi ad alimentare ogni giorno con il nostro agire. Dobbiamo amare tutti e verso tutti e ugualmente muoverci, dobbiamo amare tutti e ripeto e verso tutti ugualmente muoverci senza essere limitati in questo movimento da nessuna preferenza e da nessun ostacolo che la nostra mentalità avvezza a discriminare può crearci. È un compito gigantesco, è vero, guardate, leggendo questi libri si fa un quadro di quello che sarebbe, pensate un'umanità che fosse così, come viene descritta qui. Siamo ancora un po' lontani da questo, ci stiamo lavorando, dobbiamo dire, facciamo del nostro meglio piano piano, nel nostro piccolo, ma è quella la direzione in cui dovremmo andare, è quello, è lì che riusciamo effettivamente ad essere liberi da tante difficoltà. superare i condizionamenti, dice Claudio. Generalmente si usa il termine spiritualità intendendo con ciò affermazioni fideistiche, dogma e via dicendo. Se spiritualità significa questo, dice Claudio, noi non vi parliamo di cose spirituali. Credo che se voi andrete avanti in questa lettura scoprirete che non c'è forse niente di più spirituale di quello che troverete dentro questi libri, ma lui prende le distanze da un certo modo di pensare alla spiritualità. Ciò che noi vi diciamo non ve lo diciamo perché lo crediate, ma perché lo comprendiate, ed è diverso. Ci sta dicendo Claudio non credete a me perché lo dico io, perché vi parlo da una regione dell'esistenza che non è la vostra e forse pensate che io sono più importante di voi. Non crediate a quello che dite, comprendete, guardate se vi torna. Questa è una rivoluzione, una rivoluzione culturale. Sostengo, aspettate che mi sono perso, perché lo comprendiate, ed è assai diverso. Molte religioni, direi tutte, impongono ai loro fedeli di credere ciecamente. Così nasce la moralità, quella moralità che è come una tradizione, è così perché è così, ma nessuno sa bene perché. Preferirei essere un gran peccatore piuttosto che seguire una moralità così ristretta e non compresa. E sottolineo e non compresa. Sostengo che non esistono cose come peccato, bene e male. Esistono comprensione e ignoranza e se comprendete siete chiamati a fare quello che dovete fare. È importante questo, eh? Cioè lui ci sta dicendo alcune cose che chiamiamo bene, male, peccato e via dicendo hanno a che fare con due cose, con comprendere e con l'ignoranza. Se c'è ignoranza gli uomini fanno alcune cose che non comprendono e che non sanno neanche cosa stanno facendo, non hanno proprio consapevolezza di quello che stanno facendo. Quando c'è la comprensione però se c'è la comprensione allora tu ti devi regolare di conseguenza perché allora hai una maggiore responsabilità da questo punto di vista. Allora la moralità come tale non esisterà più per voi. Quella moralità che è una istituzione per l'uomo la comprensione è la più alta forma di moralità e di spiritualità. Se io avessi compreso che non ha senso veramente questo senso di separatività che accompagna la vita di tutti e che ci circonda di nemici no? Se io avessi compreso questo il mio comportamento andrebbe nella direzione opposta cioè farebbe in modo che io eviti di sentirmi separato dagli altri e forse farei più cose per gli altri che per me stesso perché non sentirei più questa distanza da loro questa separatività sarebbe un interpretare la vita in tutt'altro modo attraverso la comprensione non attraverso la moralità di una qualsiasi religione che mi dice il tuo comportamento deve essere questo ma ricordiamoci che cosa abbiamo detto all'inizio i comportamenti sono una cosa la realtà di ognuno di noi è un'altra quando tu hai compreso hai trasformato qualche cosa di te profondamente e questo determina come effetto un comportamento diverso non perché una religione ti ha detto comportati così ma perché dentro di te tu non puoi fare che quello ti sei trasformato sei un'altra persona sei diventato qualcuno che vive diversamente la sua vita dice Claudio queste affermazioni sembrano gettare al vento le distinzioni di bene e male su cui si fonda l'ordine della civiltà per chi non ha compreso tali distinzioni sono necessarie tuttavia esse non portano ordine né civiltà e questo lo vediamo tutti i giorni se mirate a raggiungere la chiarezza il rispetto se mirate all'ordine non affidatevi a distinzione di bene e male imposte dall'esterno affidatevi alla comprensione individuale quando non vè chiarezza in voi quando non vè alcun fermo proposito nella vostra esistenza allora è necessario stimolarvi con la paura dell'inferno l'aspirazione al cielo la distinzione di bene e di male ma quando la comprensione vi illumina dall'intimo condizionamenti esteriori non sono più necessari quei condizionamenti che possono solo neutralizzare la vostra dannosità nei confronti degli altri e anche questo è importante ma che per niente vi inseriscono nella corrente di rinnovamento totale unica e sola capace di apportare il vero ordine e la vera chiarezza se una cosa l'hai iscritta dentro di te intimamente e tu sei diventato quello il tuo modo di stare nella vita sarà quello e non c'è bisogno che ci sia nessun modo che te lo indichi perché è la natura tua che si manifesta così continua Claudio la cristallizzazione del pensiero questo è importante un grave pericolo corre l'individuo ed è il pericolo della cristallizzazione del pensiero quando l'individuo è riuscito a dare una spiegazione soddisfacente ai vari perché che lo assillano egli corre realmente un pericolo perché generalmente si chiude ad ogni ulteriore comprensione beh questo fa parte proprio di una rivoluzione del pensiero perché qualsiasi pensatore diciamo così qui siamo in un'altra area perché ci sono dei maestri delle guide che ci stanno parlando quindi però per stare più sulla terra che frequentiamo noi nessun pensatore ti propone di ascoltare quello che ha da dire e dirti al tempo stesso quando hai letto e hai capito quello che ti voglio dire vai oltre però perché sennò ti cristallizzi su quello che ti ho detto io tutti quanti che hanno qualcosa da proporre vogliono che le persone si fermino lì e che quello sia la cosa più importante da portare nella vita e gli forma una gabbia attorno al suo intimo una gabbia che lo chiude a tutto quanto ancora c'è da conoscere e del quale ancora non si domanda il perché ma se il chiedersi spiegazione costituisce per l'individuo un incentivo alla sua comprensione anche quando non si hanno pressanti domande l'individuo deve restare aperto al comprendere per restare aperti e facilitati nella comprensione occorre nascere di nuovo ogni giorno questa è una formula bellissima difficilissima ma bellissima nascere come fossimo nuovi ogni giorno ogni giorno aprire gli occhi sul mondo e aspettarsi di fare scoperte nuove e non di vivere come tutti noi viviamo sempre radicati nel nostro passato perché questo è il nostro stile di vita è così che abbiamo imparato a vivere e ci conduciamo nella vita in questo modo guardate la natura imparate perché l'uomo abbandona i suoi veicoli e nasce nuovamente l'uomo abbandona i suoi veicoli traduco l'uomo muore e poi nasce nuovamente perché in questa opera di rinnovamento cioè il morire e permetterti quindi di avere un'altra esperienza esistenziale è un'opera di rinnovamento pensate che ribaltamento dell'idea della morte perché in questa opera di rinnovamento egli ha facilitata l'ulteriore comprensione perché inizia nuovamente quasi da tabula rasa a ricostruire l'edificio del suo comprendere senza attendere senza attendere la morte e la rinascita siate nuovi ogni giorno bellissimo non chiudetevi nella sicurezza di ciò che avete o che siete riusciti a capire siate pronti ad abbandonare tutto pur di comprendere questo è importante siate pronti a demolire tutto a tutto scartare quello che voi sapete se ciò rappresenta un ostacolo a un'ulteriore comprensione state lontani da ogni cristallizzazione non crediate che voi e solo voi siate depositari della verità nascete ogni giorno ogni giorno tutto dimenticando quello che siete riusciti a capire se ciò vi fa meglio intendere l'ulteriore tappa del comprendere e questi non sono gradini facili da salire con la nostra mente con il nostro coragionamento siamo persone che ragionano capiamo quello che viene detto qui capiamo che tutto ciò che abbiamo incontrato fino ad ora in qualche modo ci limita fa sì che non riusciamo ad esprimere completamente noi stessi non riusciamo ad essere creativi non riusciamo ad inventare cose nuove ad andare incontro ad aprirci a ciò che di diverso viene perché ricordate quello che abbiamo letto poco fa perché c'è un io che fonda se stesso su quello che conosce e su quello che può avere per se stesso e quindi utilizza tutti gli strumenti che ha costruito nel passato per cercare di continuare ad accrescere se stesso si fonda moltissimo sul passato il passato gli dice tu vieni da lì hai fatto questo hai fatto quest'altro hai acquisito questo e potrai fare queste altre cose basandosi su quello che c'è stato prima ammettere che ci siano cose completamente diverse e opinioni che fino adesso io non ho preso in considerazione ma che potrebbero ribaltare le mie opinioni potrebbero mettermi davanti al fatto che non sono più così valide è una sconfitta per l'io quindi l'io cerca di evitare questo aspetto e cerca di cristallizzare di radicalizzare le proprie radicalizzare non è termine giusto di mettere radici forti su quello che ha fatto precedentemente analisi del profondo qui si entra proprio nel nel vivo del modo di lavorare di lavorare di insegnare di questo maestro io spero proprio la prossima volta di potervi fare sentire questa voce che sembra arrivare da lontanissimo una voce profondissima qui siamo nel nel 1974 quindi questa esperienza è già iniziata da alcuni anni perché le prime comunicazioni di Roberto Setti erano sono venute nel 46 il 47 quindi siamo già una trentina d'anni che parlano le guide e dicono delle cose che queste sono come dire alcune delle cose che sono state più volte ripetute per costruire in questo tipo di persone che poi a questo punto erano già state centinaia di persone che erano transitate dentro l'esperienza del cerchio di Firenze del 77 per permettere loro di trovare la loro strada dentro questa esperienza facendo qualche cosa per sé di anche un po' di pratico di osservazione di se stessi lui parla di analisi del profondo qui Claudio a pagina 83 sta parlando di noi noi adesso siamo un po' capaci di comprendere quello che ci avviene non parlo solo del lavoro dice Claudio la moglie i figli facendo leva sull'affetto familiare esigono da lui più di quanto sia ragionevole chiedere il prete paventando catastrofi in questo o nell'altro mondo esige un voto politico che assicuri un regime favorevole alla religione e così via questo si è visto in tantissimi paesi in tantissime culture e in certi anni anche da noi non voglio entrare adesso in qualcosa che possa essere sentito come troppo personale la reazione della presa di coscienza di fronte a tutto questo e ai privilegi goduti da pochi rafforza l'egoismo di ognuno perché lui sì e io no perché si dice allora io non voglio più essere sfruttato io voglio godere i privilegi che tutti gli altri godono così le parti si invertano gli sfruttatori no scusate gli sfruttati diventano sfruttatori la confusione e la licenza aumentano lo scontento di ognuno se l'operaio non ha la sua giusta paga è suo sacrosanto diritto lottare per averla ma il suo dovere è quello di amare e difendere il suo lavoro d'altra parte non è ammissibile che le posizioni vantaggiose di pochi mortifichino la collettività che per il guadagno di certi venga danneggiata l'economia generale ogni uomo per quanti beni possegga per quanta abilità e capacità abbia non è che un uomo cioè un operaio degno del suo salario e nulla di più la società futura se vorrà sopravvivere non potrà fondarsi sul profitto e sull'egoismo in ultima analisi è perciò necessario inserire l'individualismo nel collettivismo nel senso di strettamente assolvere i propri compiti ma lavorare per la collettività e non per profitto personale è una bella rivoluzione anche questa solo una fusione dell'individualismo con il collettivismo potrà da questa fusione potrà nascere una società nuova fondata e costituita da individui nuovi è chiaro che ognuno si attende che questo cambiamento avvenga imposto dall'alto da chi governa da pubblici poteri essendo ognuno convinto di non avere ruolo alcuno nella cosa pubblica noi affermiamo che ciascuno ha la sua responsabilità non fosse altro con le tacite acquiescenze ciò che noi diciamo è esattamente l'opposto di quello che si crede comunemente nessuno è responsabile della vostra inettitudine se la società è ingiusta è perché voi non siete sensibilizzati al problema della della me la mi sono perso della giustizia e a vostra volta siete ingiusti come potete pensare di responsabilizzare gli altri di ciò che voi dovete fare e non fate quando osservate il triste spettacolo della corruzione del facile arricchimento voi rimpiangete di non essere nel giro di non avere l'occasione di arricchire facilmente a vostra volta così allo stesso modo condannate il privilegio perché voi non siete privilegiati se non viene superata individualmente una concezione egoistica della vita nessun problema che affligge l'umanità che affligge l'umanità potrà essere durevolmente risolto che cosa dovete fare dunque per prima cosa convincervi che la felicità non sta nell'accumulare ricchezze o qualità o amicizie liberarvi dal desiderio di sfruttare gli altri ed essere convinti che la sola ricchezza è quella che giace nelle profondità del vostro essere ogni individuo è ricco solo di se stesso è proprio una rivoluzione del pensiero questo è sfruttare gli altri pensate anche volerli convincere alle proprie idee per avere dei seguaci capisco la vostra facile obiezione ma noi non vi parliamo per avere dei seguaci noi pensiamo che possiate trarre un aiuto dalle nostre parole ma se voi non credete e non seguite ciò che noi diciamo noi non soffriamo è chiaro che alla base dell'esistenza di ognuno c'è l'egoismo e l'egoismo non può essere sradicato ipso facto così quello che vi chiediamo all'inizio è un comportamento più giusto nei confronti dei vostri simili un'esistenza in cui le necessità siano ridotte all'essenziale ben sapendo che questo non vi cambia che questo ha valore solo nel confronto degli altri e della società in cui vivete ma che vi lascia inalterati nell'intimo vostro tuttavia è necessario a ciò che la libertà dei singoli non divenga licenza l'egoismo individuale non si trasformi in crudeltà prepotenza e tirannia quindi da questo possiamo partire semplificando un po' le nostre vite dice Claudio ma voi dovete superare l'io egoistico e personale che impronta ogni vostra azione ogni vostro desiderio ogni vostro pensiero ve lo rileggo dovete superare l'io egoistico e personale che impronta ogni vostra azione ogni vostro desiderio ogni vostro pensiero ciò è possibile solo se si è convinti della necessità di un simile cambiamento il discorso che noi facciamo ha valore per chi sa che la causa della confusione di tutto ciò che non procede rettamente non sta al di fuori di sé ma sta nell'intimo di ognuno le nostre parole invece non servono a chi rinuncia alla società perché si pone nella posizione della volpe della favola di esopo che rinuncia all'uva solo perché non vi può arrivare ma come è possibile dice Claudio superare l'io egoistico ed umano eh per secoli gli uomini quando hanno pensato a questo problema sollecitati dalle grandi spiritualità hanno creduto sufficiente comportarsi come degli altruisti per cancellare il proprio egoismo e non hanno pensato invece che cambiando l'atteggiamento esteriore la natura interiore rimane immutata è perfettamente inutile che l'ambizioso si cosparga il capo di cenere se non ha mutato la sua natura interiore lo farà indubbiamente per meritarsi un posto preeminente in una supposta vita spirituale l'unico modo per superare i propri limiti è quello di rendersi consapevoli di se stessi di essi dei limiti vedete lo scopo della vita dell'uomo potete chiamarlo come volete ma in sostanza significa una cosa sola superare una visione egoistica dell'esistenza nessun sentire di coscienza può essere raggiunto se non viene superato l'egoismo il sentire di coscienza è quello di cui vi accennavo prima cioè questa parte il sentire di coscienza questa parte interna nostra poi più avanti capiremo come da questo sentire di coscienza c'è questa necessità di manifestare se stessa in un modo così strano che è l'io che si comporta nella vita poi come si comporta ma finché questo sentire di coscienza non è maturato fino a un certo punto attraverso numerose esperienze esistenziali prevale l'io prevale un'io egoistico poi questo egoistico attraverso tante esperienze muta comincia a ritirarsi il senso di separatività diviene meno potente nell'agire dell'uomo e quindi il sentire di coscienza matura sempre di più e quindi si manifesta poi in altro modo ma insomma ci arriveremo a questo siamo ancora un po' all'inizio non abbiamo praticamente ancora cominciato l'insegnamento vero e proprio allora vedete dice Claudio lo scopo della vita dell'uomo potete chiamarlo come volete ma significa una cosa sola superare una visione egoistica dell'esistenza nessun sentire di coscienza può essere raggiunto se non viene superato l'egoismo questo in poche parole lo scopo della vita dell'uomo chiudiamo e abbiamo già compreso tutto è una battuta per dire che c'è proprio un nucleo centrale qui presentato così in maniera molto semplice lo scopo della vita dell'uomo superare una visione egoistica della vita ci vuole tantissimo per fare questo ma cominciare già a interessarsi di questo argomento porlo davanti a sé scegliere di approfondirlo di studiarlo ascoltare per esempio letture come queste o di altre cose non c'è solo il cerchio Firenze 77 c'è di tutto basta che sia qualche cosa di serio di credibile ecco non è importante il mezzo ma l'importante è che siamo orientati verso cercare di approfondire questo aspetto superare una visione egoistica della vita questo lo scopo della vita dell'uomo dell'uomo che ripete attraverso numerose esperienze esistenziali questo questo passaggio di superamento allora dice Claudio per raggiungere questo scopo lo scopo della vita dell'uomo è necessario rendersi consapevoli dei limiti che stanno alla base di una concezione egoistica della propria esistenza eseguire una sorta di auto psicoanalisi dice Claudio ciò può sembrare molto complesso perché scoprendovi egoisti voi pensate di cambiare la vostra natura cambiando un atteggiamento esteriore tutto dando distruggendo la vostra esistenza fino ad che fino ad allora avete costruito fondandola su quella visione della vita ma non è così non è così niente di tutto questo ed ecco dove la cosa da complessa si fa semplice perché richiede solo e null'altro di più che un po' di costanza e quella ce la possiamo mettere voi dovete esaminare i vostri stati d'animo e quindi i vostri comportamenti dovete ricercare la ragione dei vostri timori della vostra incomprensione dei vostri pensieri voi dovete fare per le vostre azioni e per i vostri desideri quello che fate nei confronti degli altri io vedo con quanta solerzia voi cercate di indovinare le intenzioni altrui nei vostri confronti specialmente soprattutto quelle nei nostri confronti perché mi avrà fatto questa domanda per quale motivo avrà evitato di incontrarsi con me no? e lì ci ragionate sopra ci ragioniamo sopra dunque quello che c'è da fare dice Claudio voi lo sapete fare già lo fate solo che lo fate per altri si tratta solo di spostare la vostra attenzione dagli altri a voi stessi mantenendo nell'analisi un contegno distaccato e sincero alcuni soliono giocare delle partite a scacchi da soli ponendosi ora da una parte e ora dall'altra della scacchiera così voi nell'analisi di voi stessi dovete svolgere questo doppio ruolo dell'osservatore e della persona osservata dimenticando dimenticando nell'osservare che gli osservatori siete voi stessi ma e qui è il punto la fase più delicata dell'analisi oltre alla rendersi consapevoli è di non cadere nella tentazione di comportarsi in modo opposto a come si scopre di essere questo è fondamentale non si tratta qui di adottare comportamenti diversi perché chi è che vi dice ah ho scoperto che qui non mi sono comportato bene che c'è questo aspetto di me aspetta adesso mi comporto in quest'altro modo così se mi comporto in quel modo vuol dire che sono migliore è sempre l'io che cerca di ottenere per sé che cosa una patente di essere migliore di quello che è quindi questo non va fatto osservazione senza volere in questo modo ottenere dei risultati vediamo di fare un esempio supponiamo che analizzando voi stessi scopriate di essere degli arrivisti che non esitano a mettere in cattiva luce i propri colleghi pur di valorizzare se stessi da un certo punto di vista l'arrivismo non è un difetto è un pregio perché rende attivo l'individuo e così lo rende creativo ma ciò che io affermo è che l'arrivismo è un portato dell'egoismo e l'egoismo limita l'individuo lo fa schiavo lo rende crudele se voi siete convinti e soddisfatti della vostra esistenza se credete che la causa di ogni confusione risieda fuori di voi allora l'arrivismo non è un difetto è un pregio ma se fate parte del novero degli uomini che pur potendo soddisfare ogni loro desiderio si sentono inappagati allora l'arrivismo è un difetto che deve essere troncato alla radice e si giunge alla radice non comportandosi come dei non arrivisti ma ponendosi fuori di quella concezione che vi conduce ad essere degli arrivisti convincendovi come prima ho detto che la felicità non sta nell'accumulare cose che si crede possano arricchire il proprio io forse queste parole ricordano una concezione religiosa della vita non fate l'errore di considerare l'uomo diviso in due parti una spirituale e una materiale e credere che quando la materiale gioisca la spirituale soffra e viceversa quando l'uomo soffre è perché non ha compreso qualcosa e se allora il suo spirito potesse soffrirebbe questo è bellissimo se il suo spirito potesse soffrire soffrirebbe lo spirito non soffre è l'io che soffre questa sovrastruttura della mente che soffre dice io ho cercato di riassumere in modo sintetico qual è l'analisi che voi dovete fare di voi stessi non so se sono riuscito in poche parole a farvi più chiaro quello che già sapevate ma è verso coloro che qua seguono da poco che io mi rivolgo a noi a noi che siamo qua a fare questa cosa nuova quindi è proprio per noi e c'è una domanda scusa non ho capito bene che cosa significa non comportatevi nella maniera opposta a quella che e la risposta di Claudio è questa come ho detto l'insegnamento morale che l'uomo ha conosciuto o perlomeno l'interpretazione dell'uomo data alle parole dei maestri l'interpretazione data alla parole dei maestri è stata sempre del tutto esteriore si è mirato ad avere un modo di agire se l'uomo pensa ai cosiddetti maestri pensa che questi siano altruisti che si comportino in un certo modo e allora crede che l'evoluzione di quei maestri sia raggiungibile comportandosi in un modo e non comprende invece che la cosiddetta evoluzione è un fatto di sentire interiore che non ha alcuna importanza nei confronti di questo sentire interiore e individuale il mutare di un atteggiamento esteriore non è così lo ripeto figli voi dovete rendervi conto di ciò che si agita nell'intimo vostro voi dovete superare una concezione della vita fondata sulla separatività che cos'è una cura psicoanalitica riportare nella sfera della consapevolezza dell'individuo quegli istinti che per il fatto di essere condannati dalla società sono stati dall'individuo sepolti negli strati profondi del suo io e riportandoli alla sua consapevolezza farglieli superare quello che io vi propongo è un analogo processo voi dovete rendervi consapevoli di ciò che sta dentro di voi dei limiti che sono alla base della concezione egoistica dell'esistenza al di là della tentazione di comportarvi in modo opposto a come scoprite di essere al di là del bisogno direi quasi di condannare voi stessi semplicemente rendendovi consapevoli perché è questa consapevolezza che per un processo naturale vi affrancherà da quei limiti che sono alla base di ogni concezione egoistica troncando così alla radice la causa di ogni dolore e di ogni incomprensione pace a voi questa è una con alcuni brani che viene fatta sul volume dai mondi invisibili volume del cerchio Firenze 77 della voce Claudio di una dell'entità che ha parlato per tanti anni in questa esperienza del cerchio Firenze 77 io c'è una prima cosa che mi viene da dire che è sempre sorprendente leggere queste queste trascrizioni pensate che queste che sono pensate all'eloquio perfetto esatto calibrato di queste voci questi non sono potrebbero sembrare testi scritti ma ci sono le registrazioni sono detti detti nel buio di una stanza durante una seduta dove lo strumento che permetteva questo era Roberto Setti e uscivano dalla sua bocca con la voce delle varie guide usciva usciva questa perfezione stilistica usciva questo questa saggezza così perfetta in se stessa anche da un punto di vista stilistico ma che contenuti che densità di contenuti Claudio noi lo ritroveremo in ogni volume che prenderemo in mano col passare del tempo incontreremo Claudio che ci riproporrà invariare questo aspetto del conosci te stesso ma credo che qualcuno ecco adesso adesso io cercherò di leggere qualcuna delle vostre domande e cercherò di dare anche qualche risposta se possibile vi voglio però ricordare in questa fase in cui cerco un pochino di vedere per esempio qui c'è una domanda Enrico non pensi che l'io non vada demonizzato se mai compreso essendo una creazione della mente un parte non credi che comprendendo l'io lo avremo spiritualizzato cioè comprendi te stesso e l'io è portato non più a livello egoistico ma un io che opera per l'umanità beh questa è una domanda molto bella e ringrazio chi l'ha fatta non credo che 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 da nessuna parte l'io venga demonizzato nell'insegnamento dei maestri l'io non viene demonizzato l'io viene descritto come una funzione che opera sempre nell'uomo e che via via muta nei successivi passaggi di esistenza e inesistenza si lascia il nostro corpo fisico si lascia anche tutta la parte più come posso dire più legata ai desideri ai sentimenti e poi si lascia tutta la parte della mente tutto quello nel quale ci identifichiamo viene lasciato andare quello che che rimane che permane il succo di quell'esperienza ci spiegheranno i maestri quando cominceremo ad entrarci proprio nell'insegnamento vero e proprio questo succo dell'esperienza è una forma di maturazione della coscienza che ci riguarda la coscienza che è dietro ognuno di noi che è dentro ognuno di noi questa coscienza finché poco matura esprime se stessa attraverso un io tutto proteso ad crescere se stesso ed è una fase necessaria dell'evoluzione dell'uomo per questo assolutamente non va demonizzato un selvaggio con un io proprio estremamente semplice e che quindi e che ha una coscienza ancora estremamente immatura si occupa esclusivamente di cibarsi di avere di copulare di accoppiarsi si occupa di cibarsi dai pericoli intorno a sé di avere un rifugio dove passare la notte è tutto qua non ha come dire una visione della vita nella quale sono compresi gli altri come oggetto di amore di interesse di intenzione e via dicendo si preoccupa essenzialmente di sé cerca di proteggere se stesso lì l'io è molto potente e si esprime in maniera molto grezza molto gretta non possiamo mica condannarlo noi un selvaggio perché è fatto così all'inizio del suo percorso evolutivo nelle prime forme di esistenza come essere umano dopo essere passato attraverso i mondi minerali vegetali animali cioè tutta questa costruzione di veicoli sempre più raffinati si arriva all'uomo l'uomo manifesta se stesso all'inizio attraverso poco cioè veramente poco di significativo se non che sono gradini necessari da salire per arrivare a un punto in cui la coscienza è un pochino più matura e comincia a considerare altre cose le fa sempre dal punto di vista dell'io ma questo io è anche prezioso per accrescere dentro questa esperienza per maturare per diventare altro da quello che è e quindi è assolutamente preziosa la fase dell'io diciamo che l'io da un certo punto in poi quando comincia a essere molto matura la coscienza arretra un pochino perde meno forza perché perde meno forza perché cresce la convinzione che il senso di separatività non sia la cosa giusta e quindi per anche il senso di separatività l'io si sente meno protagonista della vita ma si sente di spendere un po' più di sé anche per gli altri dall'egoismo a poco a poco si parsa verso l'altruismo quindi il processo evolutivo trasforma questa parte dell'io dell'io egoistico naturalmente ci soffermiamo su quello e naturalmente sarebbe amplissimo il tema però voglio dire a tutti ora io ho risposto in questo modo alle volte e questo fa parte dell'io su cui io devo spiegare alle volte devo spiegare un po' alcune cose ma ricordatevi sempre che le cose che vi spiego sono quelle che io ho cercato di comprendere in 40 anni e oltre ormai di frequentazione prima e di studio e di conoscenza dell'insegnamento del Cerchio di Firenze del 77 quindi diciamo ho un pochino di familiarità con questo insegnamento e un pochino di conoscenza di alcune cose sono le cose che io ho tradotto dall'insegnamento del Cerchio e io sono solo Enrico Ruggini che si è fatto la sua idea questo insegnamento è veramente una cosa che ognuno dovrebbe prendere per conto suo da solo confrontarsi magari con altri per aiutare a vedere qualche cosa che uno non capisce ma trovare la sua verità dentro di questo insegnamento quindi le risposte che vi do non sono le risposte del Cerchio Firenze 77 ma ricordate sempre che sono le risposte solo di Enrico Ruggini che è uno che si l'ha letto e tanto ma che le risposte dovreste veramente trovarle voi dentro queste pagine poi ne parliamo insieme serve anche a me confrontarmi con le vostre idee ok andiamo cos'altro qui ci sono belle cose allora dice il comportamento è un modo di conformarsi cambiare comportamento è cambiare un abito ma ciò che sei non cambia sì sono perfettamente d'accordo con te vediamo un po' se ci sono domande che possono essere interessanti un po' per tutti vediamo allora ci dicono qua Pietro Cimatti ha fatto la pubblicazione del libro Conosci te stesso teoria e pratica dell'autoconoscenza ecco si può leggere l'altro e dell'autoliberazione scuola del Cerchio Firenze 77 edizione mediterranea ecco questa cosa vera cioè l'insegnamento del Conosci te stesso è stato un insegnamento molto ampio moltissime cose sono entrate nei libri che sono stati proprio voluti e creati costruiti dalle guide dai maestri del Cerchio Firenze 77 e quindi là dentro si trova tutto ciò che è indispensabile capire di questo insegnamento e di queste indicazioni anche riguardo al Conosci te stesso alcune cose non sono entrate dentro questo e anche altre voci hanno parlato di questo tema del Conosci te stesso una di queste è appunto Dali di cui abbiamo parlato la volta scorsa Pietro Cimatti è stato uno dei partecipanti al Cerchio Firenze 77 è stato un innamorato del Cerchio Firenze 77 era un grandissimo poeta uno scrittore giornalista della Rai attraverso di lui sono potute accadere delle cose veramente anche miracolose perché già ho accennato nella presentazione di questo nostro percorso di studio che vi furono delle sedute pubbliche con veramente credo centinaia forse di migliaia di persone in ascolto sulle Firenze della Rai perché Pietro Cimatti aveva un suo programma in Rai e si collegò durante le sedute al Cerchio Firenze 77 e quindi le persone poterono sentire senza sapere cosa stava succedendo poterono sentire direttamente una delle voci del Cerchio Firenze 77 parlare e disquisire sui temi anche proposti da ascoltatori ma Pietro Cimatti ha fatto anche questa altra cosa ha preso questi materiali alcuni già pubblicati altri invece inediti raccontano come espressamente dedicato al conosci te stesso e questo libro si chiama proprio conosci te stesso a cura di Pietro Cimatti per distinguere i volumi di insegnamento dai volumi che altre persone per esempio io ho curato un libro che si chiama Il libro di François la dicitura che c'è in cima ai libri del Cerchio Firenze 77 è Cerchio Firenze 77 per esempio nel nostro caso Cerchio Firenze 77 dai mondi invisibili edizioni mediterranee edizioni mediterranee sono quelle che hanno editato tutti i libri del Cerchio Firenze 77 invece i libri che abbiamo fatto io Cimatti e altri portano la dicitura a scuola del Cerchio Firenze 77 proprio per contengere quelli sono libri che contengono tutte cose dei maestri del cerchio ma che sono stati costruiti messi insieme da persone che hanno frequentato il Cerchio Firenze 77 quelli proprio dei maestri Cerchio Firenze 77 e il titolo quelli che noi frequentato insomma chi ha fatto qualche cosa per il Cerchio Firenze 77 portano la dicitura scuola del Cerchio Firenze 77 si distingue in questo questo libro di Pietro è bellissimo di parlarla proprio di questo argomento dice questa amica questo brano è stato il primo che ascoltai la voce di Claudio entrò dentro di me spalancando le porte di un mondo a me sconosciuto da allora la porta è rimasta sempre aperta che bello bello grazie che scrivete queste cose bellissime c'era un'entità deputata a questo se non mi sbaglio Michelle a questo non so come ecco perché c'è una persona che scrive ma come avveniva i morti in vario modo se qualcuno di voi ha avuto modo di leggere io ho scritto una storia del Cerchio Firenze 77 e si intitola questa storia il Cerchio Firenze 77 una storia vera divenuta leggenda e c'è anche una pagina facebook che si chiama come questi libri su quella storia sono descritti veramente tantissimi che sono avvenuti proprio facendo vivere in prima persona questa esperienza dell'apporto come di tante altre manifestazioni ma generalmente le mani di Roberto cominciavano ad illuminarsi perché Roberto veniva in quel momento Roberto Setti era lo strumento il medium del Cerchio Firenze 76 attraverso Roberto ne parlavano le voci Dali Claudio che abbiamo sentito prima e via dicendo poi a un certo punto frequentemente arrivava questa altra entità che era appunto Michelle che era la guida deputata ai fenomeni fisici perciò arrivava questa entità e cominciavano a illuminarsi le mani di Roberto non so se avete mai fatto quel giochino da bambino si fa tutti di mettere una torcia dietro le mani e si vede come se la luce facesse diventare un po' trasparenti i bordi delle mani e come se fossero luminosi anche quelli diventano un po' rossastri ecco le mani di Roberto cominciavano a illuminarsi si vedevano queste mani sempre più luminose poi da queste dita che diventavano un po' verdina un po' azzurrina questa luce e poi cominciavano a a salire come dei fumi da queste mani di Roberto che essendo illuminati da questa luce sempre più intensa le mani poi salivano verso l'alto involute proprio luminose alle volte cominciava a formarsi come una sostanza una sostanza biancastra che mi poteva sembrare che ne so plastilina come consistenza che lui cominciava a lavorare con le dita muoveva questa sostanza che era una sostanza che si produceva in quel momento e poi non era Roberto che faceva questo naturalmente era quell'entità Michel di cui parlavamo prima lavorava questa materia questa materia la lavorava la lavorava finché non cominciava a diventare un oggetto questo oggetto quando era praticamente concluso veniva poi donato a qualcuno che in quel momento era presente di solito succedeva spesso quando c'erano persone nuove le persone nuove veniva donato uno di questi oggetti e che cosa succedeva che gli oggetti finivano di formarsi tra le mani della persona a cui veniva dato per cui veniva dato un oggetto che non era ancora formato ed era tutto le mani si chiudevano sull'oggetto la persona tornava al suo posto e sentiva questa trasformazione mentre filtrava luce attraverso le mani questa trasformazione che avveniva e per cui poi alla fine nella seduta l'oggetto era formato alle volte alcuni oggetti hanno finito di formarsi molto tempo dopo quando le persone sono arrivate per esempio a casa ricordo una signora a cui era stata regalata un piccolo oggetto che rappresentava una lucertolina che quando fu accesa la luce fu mostrata a tutti come era perché vedevamo poi questi oggetti come erano c'era questa lucertolina che non aveva gli occhi quando è arrivata a casa quindi ha lasciato il gruppo macchina è arrivata a casa gli occhi c'erano cioè si erano formati successivamente e così insomma questi alcuni casi poi altri casi le cosiddette materializzazioni avvenivano anche a luce accesa sono avvenute sono avvenute in modo istantaneo alle volte si vedeva una striscia argente attraversare tutta la stanza nel buio poi si sentiva come un oggetto cadere per terra e poi magari ecco mi viene in mente per esempio la ciotolina cinese di porcellana finissima della signora Bonora che avvenne proprio così pensate porcellana finissima cinese dell'era cinese insomma una cosa preziosa antichissima che attraversa la stanza per terra naturalmente non si rompe rimane intatta perfetta insomma alcuni oggetti sono stati visti in formazione fotografati mentre erano a un certo punto della formazione e poi rifotografati successivamente quando erano completamente formati sono state tante modalità con le quali avvenivano questi apporti allora vediamo un po' cos'altro chiedete vediamo un po' qui bisogna ecco qui dice Paolo bisogna sempre vedere la vera intima intenzione se il fine è beneficiare gli altri allora non sta agendolo io ma qualcosa di più profondo ognuno di noi può fare tanto cominciamo ma certo eh vedi questo è un tema che rientra la valorizzazione dell'io può essere anche positiva ecco ma sicuramente ma vedete le categorie positive o negative le diamo noi sono le nostre le diamo noi al comportamento degli altri e e poi le possiamo dare anche al nostro comportamento a seconda delle categorie che abbiamo come dire messo dentro di noi che sono quelle che poi ci fanno decidere per un verso o per un altro o ci fanno giudicare o meno i comportamenti delle persone che che incontriamo le nostre categorie sono le categorie dell'io inevitabilmente si sono costruite a un'opinione a un pensiero a un'idea della vita sono strutturate dentro una famiglia di un certo tipo si sono strutturate in un'epoca storica si sono strutturate dentro ad alcune conoscenze le conoscenze riguardano sempre il passato non riguardano mai il futuro quindi è tutto un sistema che si struttura un sistema di pensiero ed è per questo che l'io è della mente un sistema di pensiero con il quale noi confrontiamo tutte le cose nuove con le quali abbiamo a che fare quello che ci invita a fare Claudio è sostanzialmente osservarsi mentre lo facciamo perché osservarsi mentre lo facciamo ci permette di svelare alcune cose di noi stessi di accorgersi improvvisamente di alcune cose che altrimenti ci sfuggono ci sfuggono perché fanno parte della nostra quotidianità della nostra abitudine di vita e avviene in maniera molto automatico e quindi noi non possiamo fare altro che esprimerci per quello che siamo in quel momento il suggerimento di Claudio è osservati mentre lo fai non ti devi comportare diversamente se scopri che quella cosa secondo le personali categorie non è una cosa che vorresti avere dentro di sé non cercare di modificarla continua ad osservare perché diventando sempre più abili nella conoscenza di questo aspetto lo vediamo veramente per come è e quando lo vediamo e lo conosciamo probabilmente fa in qualche modo cambiare ma cambiare non perché scegliamo di avere un comportamento diverso ma perché abbiamo acquisito una nuova competenza di conoscenza su di noi e questo ci fa inevitabilmente essere diversi come uno di noi è diverso perché ha accumulato una quantità di esperienze e di conoscenze che l'hanno fatto essere diverso da quello che è per esempio esprimere in un modo piuttosto che in un altro allora vediamo un po' che cosa altro è stato chiesto qua quanto è che sono qui con voi ora tra poco vi saluto oggi anche la fisica quantistica parla di un tutto uno assoluto e del senso di separatività come illusorio fa riflettere come se fa riflettere hai ragione l'io di cui si parla è comparabile all'ego ma bisognerebbe che capissi che cosa tu intendi per ego perché l'ego è un termine è un termine della della psicoanalisi e ha un significato poi veramente ci sono molti significati che danno all'ego se per l'ego non lo so veramente non ti so rispondere perché l'ego veramente ha molti significati dipende molto da cosa intendi però diciamo che noi abbiamo siamo esseri che hanno la capacità di vivere e osservare mentre stanno vivendo allora la domanda che posso pensare è chi vive e non viene minimamente infatti che c'è un osservatore quello è l'io poi c'è un'altra parte di te che può stare lì a fare da telecamera di quello che stai facendo se fosse una telecamera non avrebbe nessun giudizio su quello che stai facendo mi viene in mente questa cosa che io non ho mai veramente seguito o guardato tranne proprio all'inizio tanti anni fa quando cominciavano le prime volte e mi affascinava come affascinava tutti il fatto che ci fosse un programma in televisione un format come si dice che era Grande Fratello che si rifiuteva a un film che è stato fatto negli Stati Uniti di cui adesso non ricordo il nome ma in cui c'era una persona che per tutta la vita veniva ripreso da telecamere senza sapere che stava vivendo una vita finta anche tutti intorno c'erano solo attori e che lui viveva la sua vita ma in realtà era tutto costituito e seguiva delle trame che altri volevano che lui seguisse senza che lui lo sapeva Il Grande Fratello invece era una cosa un po' diversa per cui delle persone venivano chiuse in una casa anche oggi questa cosa qua venivano chiuse in una casa e vivevano in quella casa dopo un po' che stavano là dentro si dimenticavano che c'erano delle telecamere all'inizio quindi magari cercavano di fare il bello il brutto poi forse non so perché non so immaginare non so immaginarmi dentro una situazione del genere ma forse dopo un po' si dimenticavano che c'erano le telecamere dico questo perché in alcune forme di analisi di psicoterapia si usa mettere delle telecamere dentro le case per osservare i meccanismi di conflitto poi farli rivedere alle persone che sono oggetto di lavoro di psicoterapia per mostrare loro certi meccanismi di cui loro non sono consapevoli perché descriverli non è sufficiente alle volte poi c'è una video micro analisi per cui noi vediamo per esempio nei confronti ai bambini piccoli come certe reazioni dei bambini piccoli sono quali però sono legate ai comportamenti o della mamma o al tono di voce e quindi lì si lavora in questo modo in quelle situazioni dopo un po' che queste persone hanno alcune telecamere messe per casa sanno che ci sono ma solo dimenticano e cominciano a condurre la loro vita normale senza sapere che ci sono queste telecamere ecco noi dovremmo essere le telecamere di noi stessi e noi siamo gli unici esseri viventi capaci di osservare se stessi mentre si vivono come se fossimo un po' sdoppiati come se stessimo seduti sulla nostra spalla a osservare il comportamento il modo di dire se non riusciamo a fare questo senza intervenire il comportamento che vediamo apprendiamo cose su di noi che difficilmente in maniera diversa riusciremo ad apprendere perché le cose che di noi ci piacciono le osserviamo bene quelle che non ci piacciono o che sono talmente rapide che passano in maniera talmente rapida dentro la nostra vita dentro la nostra espressione per cui noi possiamo accorgercene o l'io è talmente abile per cercare di nasconderle a se stesso per non avere un'immagine di sé negativa che non riusciremo mai a farlo però questa capacità di autoosservazione si può allenare sviluppare e ci concede di mentre stiamo vivendo facendo le nostre cose senza interferire con quello che stiamo facendo accorgersi per esempio di come stiamo respirando di come siamo seduti di come guardiamo un'altra persona di quello che sentiamo nel corpo di quello che sentiamo come emozione alle volte se vi è mai capitato di fare esercizi di rilassamento dove ti dicono rilassati e tu pensi ah beh ma io sono rilassato poi cominciano a indicarti per gruppi muscolari per portare l'attenzione e ti accorgi che no veramente sì la pancia è un po' tesa e la lascio andare poi dopo un po' ti accorgi che la schiena è un po' tesa e lascio andare anche la schiena e poi le spalle ah ma sì è vero anche le spalle non sono e poi ti dicono ma ammorbidisci un po' il viso e ti accorgi che tenevi non so la bocca chiusa e quindi dei muscoli in tensione e via 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 cioè cose di cui non ci rendiamo conto perché perché non abbiamo l'abitudine a renderci conto di questo e questo vale anche per ciò che sentiamo per le intenzioni che abbiamo per quello che ci muove per una varietà enorme di aspetti di noi quindi i maestri ci dicono ma comincia a cercare di conoscerti un po' vedi un po' come sei fatto da questa conoscenza che ti arricchisce avviene qualche cosa che ti farà essere diverso da quello che sei ma non perché tu decidi di essere diverso avviene semplicemente avviene vediamo se c'è ancora qualcosa abbiamo fatto la nostra ora e mezzo ora guardo se c'è ancora una domanda che può essere a cui può essere utile per tutti insomma vediamo qui che c'è scritto molto ammigliato voi che scrivete perché avete questa capacità di seguire e scrivere che io non riesco a fare dunque certo è un cammino lungo dentro noi stessi si potrebbe cominciare con umiltà mettendosi nei panni altrui cercando di capire senza giudicare ma apprendendo credere o sbaglio ma senti sì anche mettersi nei panni altrui è sempre un buon punto di partenza ma puoi provare a metterti nei panni altrui e sentire che cosa senti dentro te ma soprattutto dice Claudio osserva te stesso osserva i tuoi panni come se tu fossi un altro appunto che si guarda a vivere scusate sto cercando di leggere ci sono un sacco ah sì c'è lei dice bello il libro su Nella Bonora che ricordo come attrice di commedie radiofoniche che mia mamma ascoltava era bravissima Nella Bonora da questo punto di vista era veramente una grandissima attrice ah ecco c'è Fabrizio che mi dice il film a cui ti riferisci è Truman Show The Truman Show sì sì è proprio quello è proprio quello è proprio quello allora cari amici noi sempre ringraziando per aver permesso questo incontro e quindi l'idea di Anna Tamburini Torre che ha avuto quest'idea di creare questa LUX questa università della conoscenza sulla pagina facebook messa a disposizione dal nostro amico Enrico questa pagina di focus 3.0 su cui voi state guardando che ringraziamo Enrico Ballantini Anna Anna Tamburini Torre ci hanno messo a disposizione questa possibilità di leggere insieme i libri del Cerchio di Firenze del 77 ancora non siamo entrati nel vivo dell'insegnamento e la prossima volta faremo la lettura di una breve lettura di una paginetta di un'altra delle voci che è Teresa e poi entreremo cominceremo a entrare dentro le pagine di Campis per poi finalmente arrivare iniziare a entrare nell'insegnamento vero e proprio vi suggerisco di anticipare un po' la lettura perché perché così avrete la possibilità sia di fare delle domande di averle già pronte delle domande e sia perché così scivola meglio quello che via via andremo leggendo e potremo affrontarlo insieme con molta in maniera molto proficua vi ringrazio tutto io sono molto molto grato a voi che siete qua che avete voluto passare questo tempo insieme a me e poi stare con le cose dei maestri è una cosa che fa bene a noi a tutti e all'umanità intera quindi un carattolo a tutti quanti e a presto a presto